Benvenuti al 5G Italy, mi chiamo Enrico Paolini, sono professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione dell'Università di Bologna e il titolo del mio talk è Massive Machine Type Communications Towards 6G. In questo talk parleremo essenzialmente di comunicazioni machine type. Per comunicazioni machine type o comunicazioni machine to machine intendiamo comunicazioni digitali che avvengono fra dispositivi in modalità wireless, eventualmente passando per la rete internet, in modo automatico senza cioè che vi sia alcun intervento umano. Le reti radiomobili, cioè le reti cellulari, sono state concepite nel passato principalmente come sistemi per interconnettere tra di loro le persone. Tuttavia, a causa del fatto che le comunicazioni machine type nel tempo sono divenute via via sempre più importanti, le reti cellulari si sono evolute al fine di servire in maniera possibilmente efficiente anche questa tipologia di traffico. Logicamente le comunicazioni di tipo machine type sono strettamente connesse con il concetto di Internet of Things che fa riferimento ad oggetti fisici che sono interconnessi tra di loro mediante la rete internet e quindi in grado di scambiarsi i dati in modo autonomo. Per quale ragione si sente spesso accostare l'aggettivo massive alle comunicazioni machine type? Massive fa riferimento al fatto che il numero dei dispositivi machine type che generano traffico per la rete cellulare è negli ultimi anni sostanzialmente esploso, divenendo molto alto e ponendo di conseguenza una serie di problematiche tecniche ad esempio in merito alla scalabilità del sistema, alla possibilità di far agire tra di loro i dispositivi in modo coordinato e all'overhead della segnalazione di controllo. Quindi ad esempio in questa slide la figura mette a confronto uno scenario tradizionale di tipo human centric, che è quello a sinistra, in cui la rete deve offrire solo connettività wireless a dispositivi di tipo human type, con uno scenario invece a destra di tipo massive machine type, in cui accanto ai terminali human type compaiono diciamo tutta una serie di dispositivi di tipo machine type, ad esempio sensori indossabili, smart meters, robot industriali, veicoli, ciascuno dei quali genera un profilo di traffico diverso e con diversi requisiti minimi in termini di diciamo qualità del servizio. Lo standard 5G è stato concepito fin dall'inizio per supportare in maniera nativa le comunicazioni di tipo massive machine type e in particolare questo è proprio uno degli use cases che sono stati previsti fin dall'inizio per il sistema 5G. Nel caso della rete 5G il requisito era di un milione di dispositivi machine type per chilometro quadrato o equivalentemente un dispositivo per metro quadro. Chiaramente che le reti cellulari si siano evolute per supportare traffico di tipo machine type è dovuto al fatto che questo use case presuppone dei data rate aggregati che possono diventare anche abbastanza grandi, abbastanza alti e a volte anche una copertura geografica estesa. Tutti i requisiti questi che per loro natura le reti cellulari sono in grado chiaramente di soddisfare. Tra l'altro nel caso del sistema 5G i cosiddetti key performance indicators per il traffico machine to machine possono essere riassunti in affidabilità, latenza e scalabilità della rete. Ora la domanda è se lo scenario massive machine type è già previsto per la rete 5G per quale motivo abbiamo bisogno di un sistema radicalmente nuovo e quale sarà il futuro sistema 6G. Allora qui i motivi sono sostanzialmente due. Il primo è che i requisiti diciamo in relazione ai quali il sistema 5G è stato sviluppato non sono più sufficienti in un contesto che nel frattempo si è evoluto. Il secondo motivo è che sono nel frattempo emersi dei nuovi requisiti che non erano stati previsti nello sviluppo del 5G. Ad esempio le proiezioni ci dicono che il numero dei dispositivi machine type passerà da 11 miliardi del 2019 a 30 miliardi nel 2030 e di fronte a questo incremento la rete dovrà essere in grado di gestire non più un dispositivo per metro quadro ma 10 dispositivi per metro quadro o anche 100 dispositivi al metro cubo se consideriamo anche la dimensione verticale. Il secondo requisito riguarderà il tempo di vita dei nodi cioè senza che vengano sostituite le batterie che dovrà poter arrivare addirittura a 20 se non 40 anni il che impone l'utilizzo di tecnologie nuove di energy harvesting, wireless power transfer o comunque in generale di tecniche di comunicazione wireless che siano il più efficienti possibile dal punto di vista energetico. Lo stesso impatto ambientale della rete diventerà un requisito cosa che non era presente nel sistema 5G. Tutto ciò impone quindi un cambiamento radicale nel modo di concepire la rete cellulare che necessariamente dovrà prevedere l'utilizzo di nuove tecnologie. Ecco in questa slide vengono riassunte alcune delle caratteristiche e dei requisiti che vengono attualmente ipotizzati per uno scenario di tipo massive machine type in un futuro sistema 6G. Come si può andare dalla trasmissione di pacchetti molto corti in istanti di tempo non predicibili fino a trasmissioni periodiche fino addirittura a trasmissioni continue. L'ultima riga ecco mostra anche tutta una serie di nuove tecnologie che sono previste per il futuro sistema 6G. Come si può vedere si va da intelligenza artificiale fino a blockchain fino anche ad esempio alle comunicazioni terahertz. Ora entrando un pochino più nel dettaglio delle nuove tecnologie in questo talk mi focalizzerò brevemente sul problema dell'accesso multiplo nel caso massive machine type. Per accesso multiplo si intende un problema di trasmissione quindi un problema di comunicazione nel quale ci sono più trasmettitori che devono trasmettere informazioni allo stesso ricevitore condividendo il canale di comunicazione ad esempio condividendo il canale wireless. Logicamente nel contesto massive machine type il problema dell'accesso multiplo diviene estremamente complesso come si può vedere ad esempio nella figura a causa del numero altissimo di dispositivi che vogliono inviare dati ad una stessa base station e al fatto che molti di questi dispositivi generano di fatto un traffico di tipo intermittente cioè un traffico fatto di pacchetti di dati che sono molto corti e che vengono trasmessi in istanti di tempo non predicibili. Per gestire quindi questo tipo di traffico in uplink con i nuovi requisiti quelle che erano le tecniche cosiddette grant free del sistema 5G non sono più sufficienti e si rende quindi necessario lo sviluppo di nuove tecnologie. Allora la comunità scientifica ha da tempo iniziato a studiare delle tecniche di accesso multiplo cosiddette di tipo non coordinato cioè che richiedono pochissimo overhead di controllo in particolare schemi di accesso random cosiddetti moderni cioè basati su algoritmi interattivi di cancellazione dell'interferenza e sulla diciamo connessione con la teoria dei codici su grafi sparsi. In questa slide si possono vedere alcuni dei nomi delle tecniche che sono di maggior interesse. Come accennato nella slide precedente la tecnica di accesso multiplo non coordinato attualmente di interesse per il futuro sistema 6G sono basate su una combinazione di codifica correzione d'errore eseguita a livello di pacchetto e di cancellazione iterativa dell'interferenza. Queste tecniche come si è detto hanno una connessione molto forte con la teoria dei codici rappresentabili su grafi sparsi. Allora diciamo una caratteristica molto interessante di queste tecniche è quella di essere in grado di gestire le collisioni cioè diciamo la mutua interferenza tra utenti che trasmettono contemporaneamente il loro pacchetto senza la necessità di richiedere agli utenti la ritrasmissione del pacchetto stesso. E questa caratteristica per sua natura elimina a priori tutti i problemi di stabilità che si verificano nel caso invece in cui lo schema sia basato sulle ritrasmissioni. Allora l'idea è quella di fare in modo che ogni utente come diciamo si vede qua rappresentato nella figura codifichi dei frammenti del proprio pacchetto e trasmetta i frammenti codificati che in alcuni casi potrebbero essere anche repliche del pacchetto stesso in istanti diversi all'interno di una finestra temporale. Dopodiché al ricevitore una combinazione di decodifica a livello di pacchetto e cancellazione iterativa dell'interferenza riesce a ricostruire in molti casi tutti i pacchetti ricevuti nonostante le inevitabili collisioni dovute al fatto che gli utenti agiscono in maniera non coordinata. La figura a destra mostra sul piano efficienza ETA traffico al ricevitore G il limite teorico per le tecniche non coordinate su un modello di canale che si chiama modello di canale a collisione evidenziando come alcuni di questi schemi riescano effettivamente a performare cioè ad operare in prossimità del limite ultimo, del limite fondamentale su un intervallo molto ampio di valori di efficienza. Il talk finisce qua, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio in questa slide qualche riferimento tratto dalla letturatura scientifica per possibili approfondimenti. Grazie e buona giornata.